Maglia nera per la campagna in materia di sanità. La nostra regione risulta essere la peggiore del mezzogiorno e la prima per mortalità evitabile di uomini e donne. Le disuguaglianze tra nord e sud si aggravano, come evidenziato dal rapporto Svimez intitolato Un Paese Due Cure, i rivari nord-sud nel diritto alla salute. In un mezzogiorno già afflitto da condizioni sanitarie non ottimali si registra una bassa prevenzione e la fuga per curarsi. Secondo le valutazioni dell'Istituto Superiore di Sanità, nel biennio 2021-2022 in Italia circa il 70% delle donne di 50-69 anni si è sottoposta ai controlli. Circa due su tre lo ha fatto aderendo ai programmi di screening gratuiti. Nel 2022, si legge nel documento, dei 629.000 migranti sanitari il 44% era residente in una regione del mezzogiorno. Per le patologie oncologiche nel 2022 circa 12.000 pazienti meridionali, pari al 22% del totale, si sono spostati per ricevere cure in un sistema sanitario regionale del centro del nord. Solo 811 pazienti del centro nord hanno fatto il viaggio inverso. Aumentare la spesa sanitaria è prioritario, conclude lo studio. Andrebbe corretto il metodo di riparto regionale del fondo per tenere conto dei maggiori bisogni di cura nei territori a più elevato disagio socio-economico. L'autonomia differenziata inoltre risca di ampliare le disuguaglianze nelle condizioni di accesso al diritto alla salute.